Ragazzi buona giornata a tutti, buon giovedì 8 agosto 2024 a tutti, allora innanzitutto come sempre mettete in piaccia il video per supportare gratuitamente il canale ma per dimostrare anche la vostra felicità dopo le notizie che stanno uscendo ovviamente da ieri e ovviamente dopo che ho fatto il video lunedì da pessimista ovviamente, quindi mi raccomando mettete in piaccia il video, adesso affrontiamo questo argomento qua. Allora, allora, l'intervista di Giampiero Gasperini all'Eco di Bergamo, lui ha rilasciato tra le tante cose questa dichiarazione qua. La situazione di Coop Maners è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo. Allora, io non credo che il signor Coop Maners abbia deciso la scorsa settimana di andare alla Juventus, adesso si vocifera in giro per Bergamo che l'Atalanta avrebbe promesso la scorsa estate che qualora fosse arrivato un'offerta congru quest'anno vicina a quella fatta dal Napoli l'anno scorso, l'Atalanta l'avrebbe lasciato andare. Fino alla scorsa settimana l'Atalanta non ha mantenuto questa parola qui e probabilmente Coop Maners si è stancato, punto, cioè, questo è, e credo che sia giusto sotto questo aspetto qua. Non sono mai d'accordo per i giocatori, ma non è per un discorso che c'è la Juventus di mezzo, perché se tu fai una promessa, è come quando noi diciamo dei giocatori che fanno una promessa alla società e poi non le mantengono, è giusto criticarli, ma anche la società dovrebbero mantenere le promesse quando vengono fatte. Si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi, altra piccola parentesi, altra voce che gira a Bergamo, sarebbe quella che Coop Maners della Supercoppa Europea se ne sbatte le balle, lui vorrebbe assolutamente arrivare alla Juventus, venire alla Juventus prima alla Supercoppa Europea, non gliene frega niente di giocarla, lui preferisce la Juventus alla Supercoppa Europea, solo per questo fosse la Juventus, cercherei di premiarlo. E con questo atteggiamento non può essersi utile, la società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione, diversa dalle altre volte in cui l'Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato. E se è diverso rispetto alle altre volte, il motivo credo che sia all'inizio del video che ho detto appunto. Poi ha rilasciato un'altra dichiarazione, dicendo che appunto l'Atalanta in questo momento qua è meno forte rispetto al finale di stagione dell'anno scorso, che per la Supercoppa Europea dovrà fare a meno di Scamacca, Scalvini e Coop Maners, quindi praticamente dà già per scontato, poi vedremo se sarà così, perché poi tra le parole e i fatti se ne passa, però da quello che ha detto lui, dà già per scontato che Coop Maners non sarà della partita contro il Real Madrid in Supercoppa Europea. E quindi questa è la situazione, io questa intervista qui l'ho letta anche, può essere un segnale nei confronti della Juventus, che secondo qualcuno non si sta comportando bene, ma vabbè, può essere un segnale nei confronti del giocatore stesso, ma io l'ho vista più come un segnale forte alla società, cioè, ok, le vostre pretese sono chiare, ma io ho qua un giocatore scontento, io voglio allenarmi e allenare una squadra contenta e sicura che rimarrà questa stagione qua, chi è scontento lasciatelo andare, abbassate un po' le pretese, venitevi incontro, ma io questo giocatore qua così non lo voglio, punto, perché per fare un'intervista così pubblica il messaggio che passa è questo, per come la vedo io, il spettatore, o meglio, spettatrice interessata, direttamente interessata ovviamente alla Juventus, che se la guarda e se la gode, c'è qualcuno già che sta iniziando a fare polemiche, se la Juventus si comporta così, noi ricordiamo che noi abbiamo svenduto un certo Cristiano Ronaldo facendo minus valenza, e ricordiamo che un certo De Vrij, quando giocava alla Lazio, sapendo già che sarebbe stato un giocatore dell'Inter, fece un cramoroso autogol a favore dell'Inter, ricordiamoci queste cose qua, siccome queste polemiche ovviamente vengono fuori dagli interisti, ricordiamoci queste cose qua, quindi lasciamo stare, anzi lasciate stare, che è meglio, perché poi se voi andate sempre su queste robe qua, poi noi troviamo sempre il modo per smerdarvi, quindi andiamo avanti. E' una situazione un po', boh, criptica? Non lo so. Come la leggete voi questa situazione qua? Io credo che dopo un'intervista del genere, diciamo, la vedo come una rotura insanabile, perché il giocatore sta facendo di tutto per venire alla Juventus, e su questo bisogna apprezzarlo, anche se magari non lo apprezzo tantissimo a livello tecnico, ma poi ne parleremo, tecnico, di discontinuità, quello che vogliamo, però poi ne parleremo, perché dovesse arrivare l'ufficialità, ne parleremo, intanto aspettiamo tutti boh, e speriamo che ufficializzino loro in questi giorni, prima del fine settimana sarebbe meglio, così poi magari all'inizio della prossima settimana si fa l'assalto definitivo per lo stesso giocatore, appunto, ulandese dell'Atalanta. Io non lo so, cioè, io non so come leggerla sotto alcuni aspetti, anche se comunque credo che veramente sia una rottura che non si può sistemare, cioè, praticamente hai detto che il giocatore si è messo da solo fuori rosa, in poche parole. E che non aspetta altro che andarsene dall'Atalanta e andare alla Juventus. Cioè, questa è la sintesi di quello che ha detto Gasperini all'Eco di Bergamo. Io adesso non so se questa intervista qui, a differenza di quella che è stata, quella di Motta, in Concorde, credo, con Giuntoli, non so se questa sia stata un'intervista concordata con la società atalantina. Io non credo, io non credo assolutamente, anzi, credo che sia stata un'intervista rilasciata a Gasperini volutamente per mettere un po' fretta all'Atalanta nel cedere il giocatore per poi guardare subito avanti, no? E guardare anche subito al sostituto, al presunto, al probabile sostituto. Ci voleva, ci voleva questo strappo qui, l'avevo detto ieri o proprio ieri o due giorni fa, in una live nostra da Juventus che siccome la Juventus era stata un po' delusa dal fatto che Kunmenas non aveva forzato la mano, è arrivata questa rottura qui, quindi prima, perché poi alla fine è successo prima che io dicessi questa cosa qui, ma non lo sapevamo ovviamente e credo che in questo momento qua, cioè, non vedo e poi magari sicuramente andrà al contrario, però veramente non vedo come non possa venire da Juventus lui, non possa non andarsene via dall'Atalanta. Poi, per carità, abbiamo mille esempi di giocatori reintegrati come Sanzo, all'United ad esempio, quindi, se poi la persona è matura e ci si viene incontro, si riescono a risistemare le cose, però deve esserci la volontà da entrambe le parti, senza rancori. Non lo so, perché io credo che l'Atalanta, facendo sto giochetto qua, rischi di perdere anche quei 50 milioni di euro, perché non si sa se fra un anno varrà la stessa cifra. E credo che Gasperini, appunto, non voglia più tenersi in rose e lavorare con un giocatore appunto scontento. Poi, sul discorso delle cifre, poi ne parleremo più avanti, anche se c'è da dire che anch'io non sarei contento di certe cifre, però ricordiamoci che per un certo Arturo Vidal, venduto dopo la finale di Berlino per 40 milioni, noi, o meglio io, comunque ero contento della cifra, ok? Ero contento della cifra perché arrivava da un anno non brillantissimo, anche perché era stato messo trequartista, quindi fuori ruolo, però, sapete, era un top player, cioè un top player, no, era il top della squadra, uno dei top della squadra, a venderlo per soli, 40 milioni con i soldi che già giravano all'epoca, insomma, erano pochini, per un giocatore che comunque quella stagione lì, quella stagione lì, da centrocampista, trequartista, tra l'altro, l'ha chiuso con 8 gol, uno in Champions, sette in Serie A, e non so quanti assist, adesso vediamo, non so quanti assist, adesso vediamo, con 8 gol e 4 assist, quindi non fu un, un ruolino di marcia fenomenale, come magari di fatto l'aveva fatto ai tempi di Conte, perché con Conte probabilmente ha reso al massimo Arturo Vidal, eppure l'abbiamo venduto a 40 milioni, un giocatore che comunque, anche lui mi pare, avesse più o meno l'età di Cup Minus, non vorrei dire una cazzata, però, di fatto, veloce demo a una cifra pari a 40 milioni di euro, paragonandolo un attimo con i tempi che sono leggermente cambiati, ma comunque secondo me non è che è cambiato così tanto a livello economico, con un giocatore che comunque ha fatto molti più gol e molti più assist l'anno scorso, e pretendere di prenderlo alle stesse cifre, con le quali hai venduto Arturo Vidal, sotto quell'aspetto là probabilmente nel calcio moderno non è proprio fattibile, quindi io credo che 60 siano troppi, credo che per un 50-53 bonus compresi si possa chiudere, e sia una cosa vantaggiosa, e siccome è la cifra giusta per Cup Minus, però questo è un discorso che faremo nel caso in cui dovesse arrivare l'ufficialità. Sta di fatto che il giocatore ha strappato definitivamente con l'Atalanta, confermato anche da Gasperini, e questo significa che quando si dice, ma è quello che sentiamo, sono cose che si sentono e quant'altro, che alcuni giornalisti magari enfatizzano, però effettivamente hanno raccontato, come la realtà sotto quell'aspetto là, fatalità, è uscita questa intervista qui, dopo che erano uscite voci ieri, su un litigio tra Gasperini e Cup Minus martedì, e quindi probabilmente ha fatto questa intervista qui per chiarire la cosa, per far capire qual è la situazione con Minus in questo momento qua all'interno dell'Atalanta, e quindi non erano voci infondate. Tutto lì. Buon, vedremo come andrà a finire, vedremo l'evolversi della situazione, sicuramente prima dobbiamo chiudere Todiboh, e poi cercare di fare l'ultimo offerto ufficiale all'Atalanta per Cup Minus, e credo che l'Atalanta, comunque per un giocatore che va per i 27-28 anni, adesso non so se ne ha già 27 o se li deve compiere, e rifiutare anche soli 50 milioni di euro, per me è rischioso, perché non parliamo di un top a livello internazionale assoluto, è inutile gerci attorno, è un giocatore per me da contesto, come lo era con Gasperini, lo potrà essere con Thiago Motta, con due centrocampisti dietro come Douglas Lewis e Thuram, comunque può fare quel tipo di lavoro lì, può essere importante in un contesto già collaudato, con Motta non lo è ancora ovviamente, lo sarà il prossimo anno, però costruito con una logica, quindi vedremo, vedremo, e niente, io tra l'altro nelle storie della Juvengers Crew, che tra l'altro mi è vinto a seguire, la Juvengers Crew Official su Instagram, ha visto la nostra storia, tra l'altro c'è riferita a lui, e vediamo adesso insomma come andrà, come andrà la situazione, però dopo queste dichiarazioni di Gasperini, su Coop Maners, sono leggermente più fiducioso, questo sì, e secondo me Giuntoli, ha lavorato sotto, con i tempi che magari possiamo anche criticare, quant'altro, però sono dell'idea, che alla lunga, ci sarà tanta gente, che al di là dell'attore, Tiago Motta ovviamente, ma dovrà ricredersi sulla coppiata, Tiago Motta aggiunto lì, per come la vedo io, magari non nel breve tempo, nel breve termine, ma alla lunga secondo me sì, alla lunga secondo me sì, vabbè, detto questo, buona giornata a tutti, sempre e comunque fino alla fine Forza Juventus, sicuramente ci vediamo con la programmazione, Andrini Manager's Cube, non so se alla 12.55 andrà in live Luca, e comunque, restate connessi, sui nostri canali, che ci sono novità, opinioni diverse, informazioni, quant'altro, mi raccomando, che siamo sempre qui disponibili, e a riportarvi, intrattenimento, competenza, e informazioni, ciao a tutti, e alla prossima, Grazie a tutti,